Verso Sant'Elena, il libro di Roberto Pazzi, candidato al premio Strega 2019, è stato recente vincitore del premio Porta d'Oriente a Bari. Un prestigioso riconoscimento che il noto scrittore ferrarese racconta a margine della presentazione del testo nel corso di Autori a Corte in Biblioteca Riostea. Sì, era una giuria ottima con dei nomi di bravi critici, di bravi lettori e poi ha avuto una storia gloriosa, l'hanno avuto Luciano Canfora, Roberto Cotroneo, Massimo Noffri e vari altri personaggi. Mi piace molto anche il significato augurale dell'apporto, non del muro, cioè un premio che si lancia verso l'Oriente e quindi che unisce, non chi chiude. Siccome c'è una mala tendenza oggi a chiuderci, sovranismi vari, questo premio è l'insegna invece di un'apertura perché si dava a Bari che è con la fiera del Levante, proprio una porta verso il Levante. Verso Sant'Elena è il romanzo di una notte, è un romanzo notturno, forse un po' le mille e una notte. Infatti c'è un personaggio femminile, Eugenie, che evoca un po' Sharazade, quella che inganna la morte raccontando ogni notte al sovrano un nuovo racconto che interrompe sul più bello perché così dilunga la vita, lui non la condanna a morte. Questa è la storia delle mille e una notte. In qualche modo c'è un personaggio femminile che è uscito dalla penna di Napoleone Bonaparte, che io ho trovato per caso in una libreria, ho trovato un romanzo che lui aveva scritto a 25 anni neanche, Clisson e Eugenie, è uscito 129 anni dopo la sua morte. Il pomeriggio con Roberto Pazzi ha fatto parte dell'iniziativa della rassegna Autori a Corte, che può già tracciare un bilancio positivo. Il bilancio è intanto provvisorio, visto che domani abbiamo l'ultimo appuntamento, domani sera dalle ore 20 presso il consorzio Factory Gesù di Via Poledrelli 21, nostra classica sede estiva. Avremo l'ultimo appuntamento in cui presenteremo la guida del quartiere Giardino, per cui giochiamo abbastanza in casa. Ovviamente abbiamo creato una guida turistica proprio su questo quartiere di cui tanto si parla ultimamente. Diciamo che il bilancio è più che positivo, in quanto per il primo anno abbiamo cercato di allargarci alla provincia. Abbiamo fatto due date, una da Argente e una da Copparo, di cui siamo veramente molto soddisfatti. Abbiamo sempre avuto tutto esaurito, sala piena, interesse, ci ha riempito di gioia e di orgoglio. Le nostre date ferraresi sono comunque andate molto bene, abbiamo avuto Marcello Simoni, che come al solito ha una sicurezza da queste parti, e poi altre presentazioni che sono state comunque seguite e soprattutto ci tengo a dire, anche se non dovrei, ho visto un notevole interesse per i libri, abbiamo venduto molti libri. Questa è una cosa bellissima perché alla fine per l'editoria è importante l'incontro, è importante parlare, però è soprattutto importante vendere i più libri possibili, soprattutto in questo periodo natalizio.